L'Itinerario delle Rocche di Francesco Di Giorgio Martini e il Palazzo Ducale di Urbino, questo è il nome che abbiamo dato a questa nuova guida turistica, è l'ennesima iniziativa che scaturisce dal progetto Itinerario della Bellezza. Abbiamo sempre sostenuto che l'Itinerario della Bellezza è un grande contenitore all'interno del quale noi estraiamo delle pillole, estraiamo, come dicono quelli bravi, dei cluster turistici e in questo caso abbiamo pensato di realizzare un Itinerario turistico legato alle Rocche che Francesco Di Giorgio Martini ha realizzato, ha disegnato all'interno del Ducato di Urbino ma nei luoghi che fanno parte dell'Itinerario della Bellezza. Noi vogliamo dare ai turisti un'altra opportunità per visitare il nostro territorio cercando di valorizzare al meglio le eccellenze che questo territorio ha e indubbiamente le Rocche di Francesco Di Giorgio Martini e il Palazzo Ducale di Urbino sono una delle eccellenze della nostra terra. È un altro itinerario importantissimo proprio a livello turistico perché è veramente un qualcosa di emozionante che può dare quel valore aggiunto al turista che va in questo momento alla ricerca proprio di emozione e l'Itinerario delle Rocche è proprio una scoperta di un tesoro delle Rocche di quello che c'è all'interno come se fosse veramente uno scrigno da cui si può trarre valore quindi credo che in questo momento dove abbiamo bisogno veramente del turista che va a cercare emozioni e nel nostro caso abbiamo veramente tutto nel nostro territorio abbiamo arte, cultura ed enogastronomia e il turista può trovare veramente tutto cosa che in questo momento credo sia fondamentale per riprenderci anche a livello economico dove possiamo veramente dare qualcosa in più. E finalmente abbiamo messo nero su bianco un bellissimo progetto un progetto che parte proprio dalla valorizzazione dei borghi delle nostre eccellenze, delle eccellenze architettoniche che abbiamo sul nostro bellissimo territorio, sul Monte Feltro, a ridosso d'Urbino e quindi è il momento giusto, nonostante il momento critico e il Covid di partire, di progettare adesso per la futura rinascita perché rinasceremo da questo momento e vorremmo rinascere con qualcosa di nuovo o qualcosa di bello, parlando proprio della bellezza parlando dei nostri borghi e delle nostre eccellenze e quindi con la ConfCommercio, e ringrazio il direttore Amerigo Verotti abbiamo messo a punto proprio questo nuovo itinerario un itinerario che parla di architettura, delle bellezze dei nostri borghi e dei nostri partimoni storici, culturali ed artistici proprio da questo confronto con Amerigo è nato questo progetto quello di valorizzare un percorso legato a un grande architetto Francesco Di Giorgio Martini e quindi ho chiesto proprio alla ConfCommercio di partire di inaugurare questo progetto proprio qui, a casa nostra a ridosso proprio di questo bellissimo capolavoro di architettura militare realizzato da Francesco Di Giorgio Martini e noi siamo orgogliosi di avere qui alle nostre spalle questo patrimonio dell'umanità un patrimonio che ha salvato anche l'arte, l'arte italiana nei capolavori dell'arte italiana perché qui durante la Seconda Guerra Mondiale proprio il sovrintendente Pasquale Rotondi delle arti di Urbino ha ricoverato oltre 7.000 capolavori dell'arte italiana proteggendoli dentro questo capolavoro di architettura militare lo stesso Pasquale Rotondi riconosce nella struttura della Rocca di Soscovaro la solidità quindi ritiene il luogo ideale la Rocca di Soscovaro per proteggere l'arte di QTSS Grazie a tutti.